Claudia, cosa è successo? Non lo so, non lo so, qualcuno, qualcosa mi ha, mi ha, meglio che vada. Buonasera signora, scusi tanto per prima. Ma eh, mi avevano detto che... Buonasera signora. Buonasera signora. Buonasera signora. Buonasera signora. Maona Nationalsen Hoje isti da Sofilda Askerman attrì a tutti della app. Buonasera signora. Buonaseraцо. Buonasera signora. Buonaserasanza. Buonasera batte.